Un incendio doloso ha danneggiato un magazzino a Catanzaro, nella struttura che ospitava il negozio, il mercatone e ora vuota, secondo i primi accertamenti della squadra a volanti della Questura, avrebbe dovuto essere realizzato un mobilificio. Sono stati gli agenti a notare del fumo uscire dal locale e ad avvertire i vigili del fuoco, che hanno spento l'errogo nelle fasi iniziali, evitando che le fiamme raggiungessero dei fusti di benzina messi all'interno per distruggere la struttura. Grazie a tutti!